Angelica è capace di intendere e di volere. La perizia psichiatrica eseguita sulla giovane che è stata autrice, ricorderete, di un disastro a Santo Stefano di Cadore, una famiglia investita mentre passeggiava, una famiglia di turisti investita mentre passeggiava sul marciapiede in pieno centro di Santo Stefano. La perizia psichiatrica dice che Angelica non poteva essere in preda a qualche problema psichiatrico perché non ne ha. Si era visto, ricorderete, che non era sotto l'effetto di stupefacenti o di alcol. Insomma, la sua posizione e la posizione di questa giovane si aggrava dal punto di vista giudiziario perché si affaccia perfino l'ipotesi dell'omicidio plurimo volontario perché la macchina andava bene, non c'erano alterazioni del suo stato psicofisico dovute a sostanze né c'è una carenza dal punto di vista psichiatrico. Falciò tre persone, è il titolone sul gazzettino in pagina 2, perizia psichiatrica in chioda angelica, depositato in procura l'esito dell'esame sulla 32enne accusata di omicidio plurimo. Dallo scenario emerge che la donna sarebbe capace di intendere e di volere. E sul Corriere delle Alpi la pagina 28 è dedicata allo stesso tema, il titolo è quello che vi leggo ora angelica è capace di intendere e volere. Depositata la perizia? Indagini a una svolta. La perizia, la psichiatra della procura, ha parlato in tedesco con l'indagata. Il PM Marcon è pronto a inviarle l'avviso di garanzia. Andiamo a leggere sul Corriere delle Alpi l'articolo qualcosa dell'articolo di Gigi Sosso che ci chiarisce meglio a che punto siamo insomma con la ricostruzione di quello che è accaduto a Santo Stefano di Cadore. E cominciamo così quindi la rassegna stampa di Radio Piave in blu di oggi che è martedì 28 novembre. Luigi Guglielmi che vi guida nella lettura di quello che c'è sui giornali di oggi. Amici di Radio Piave poi come al solito se volete anche vedere queste notizie di cui sentite alla radio potete andare a cercare questa rassegna in versione video sui nostri social su Facebook, Youtube, Instagram. Angelica sa scegliere altrimenti dice l'articolo non sarebbe rimasta in silenzio nella sua cella del carcere veneziano della Giudecca dal giorno della strage di Santo Stefano di Cadore ma sarebbe anche capace di intendere e volere secondo la psichiatra Anna Palleschi che ha firmato la perizia commissionata dal pubblico ministero Simone Marcon. Sarebbe perché su quella trentina di pagine c'è il segreto istruttorio quindi sono voci che sono trapelate. La specialista padovana ha incontrato più volte Angelica Hutter parlandole in tedesco e le sue conclusioni sono più o meno le stesse alle quali era arrivato il collega bellunese Tullio Franceschini nell'immediatezza dell'investimento mortale dei turisti veneziani ricordiamo i loro nomi Marco e Mattia Antoniello e Maria Grazia Zuin in via Udine centralissima a Santo Stefano. Solo sfiorati e lievemente feriti Elena e Lucio Potente che stavano a loro volta camminando in fila indiana in direzione di un mercatino non fonda con rilevante probabilità né la sussistenza di una patologia psichiatrica o un disturbo della personalità della capacità di intendere e volere. Ecco questo era stato scritto. Tra gli altri Palleschi si è occupata del caso di Benno Neumeyer il 32enne Bolzanino che ha ucciso i genitori ne ha occultato i cadaveri insomma è una persona di grande esperienza. Nella vicenda di Hutter il reato ipotizzato è quello di omicidio stradale prurimo e questo non potrebbe essere altrimenti perché gli ha uccisi lei la 32enne bavarese di Deggendorf non ha mai parlato dall'interrogatorio di garanzia all'ospedale civile di Venezia e non hanno aperto bocca nemmeno i suoi genitori quando nei mesi scorsi sono andati a trovarla in carcere. Dovrebbe confessarlo per vedersi contestare l'omicidio plurimo volontario servirebbe una confessione e così finirebbe davanti alla corte d'assise di Venezia invece che al tribunale di Belluno. Non c'è una ricostruzione alternativa rispetto a quella della procura di Belluno nemmeno da parte dell'avvocato difensore d'ufficio Giuseppe Triolo. Il legale era presente all'esperimento giudiziale eseguito nel mese di ottobre ricordate hanno ricostruito la scena con persone oggetti per cercare proprio di ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo la ricostruzione della magistratura basata anche su due video girati da telecamere di videosorveglianza alla guida della sua Audi A3 Angelica ha fatto un'inversione AU all'altezza dell'officina meccanica e poi è piombata in via Udine in terza marcia alla velocità di 90 all'ora laddove il limite era dei 50 appunto senza essere ubriaca senza stupisacenti con la macchina che andava bene e in queste condizioni a velocità piena è salita sul marciapiede e ha travolto i due pedoni e il bimbo di due anni sul passeggino. Non ci sono segni di frenata, questo è un fatto inquietante e il consulente incaricato Andrea Calzavara non ha trovato guasti su un'auto che si è fermata solo dopo aver perso una ruota. Era in viaggio la donna per l'Europa dal mese di ottobre dello scorso anno. Ecco questo così per leggervi qualcosa non tutto dalla presentazione che della vicenda fa il Corriere delle Alpi. Vi dicevo del Gazzettino, Angelica Uther si riferisce anche qua come è andata la vicenda. Il fatto che lei non abbia parlato, questa donna si è trincerata nel silenzio, dice l'articolo di Giovanni Longhi, è un clamoroso errore strategico secondo gli esperti che potrebbe ritorcersi contro la stessa Angelica perché deliberatamente scegliere e decidere di non parlare per farsi passare incapaci di intendere e di volere per puntare su una diminuzione della pena denoterebbe al contrario la facoltà di prevedere le conseguenze delle proprie scelte e quindi è proprio questo ad escludere l'incapacità di intendere. Paradossalmente sarebbe stato meglio da un punto di vista strettamente processuale se Angelica avesse ammesso la propria responsabilità adibitando la tragedia a una distrazione. Il silenzio non aiuta tanto che gli inquirenti non escludono, eccolo qui il punto, non escludono, ve lo dicevo prima, la volontarietà. Cioè che questa donna, chissà sulla base di quali ragionamenti, di quale stato di rabbia o che ne so, sia andata addosso volontariamente a queste persone. Incredibile, tremendo, tremendo. Va bene, non va bene niente. Ecco, purtroppo insomma la vicenda è veramente contornata di questo alone terribile. Sul gazzettino di Belluno, prima pagina, il titolo è in prima pagina, strage in comelico, Angelica capace di intendere e di volere, è stata depositata la perizia psichiatrica, eccetera. Quindi insomma, amici, se volete sapere di più di questa notizia, sia che acquistiate il gazzettino, sia che compriate il Corriere delle Alpi, avrete molti particolari a disposizione per quello che si può sapere, appunto perché, come dicevamo, gli altri sono coperti dal segreto, però insomma cose importanti sono tropevate. Allora, sotto il titolo, sotto la testata, Alessandro Masucci, il pelmo d'oro, morto a 80 anni, ni, vola lassù tra le tue montagne, calcio, doppia sfida con la Claudiense, Andreucci, stima Donomiti, Longarone, eventi sportivi in provincia, sarà un 2024 di emozioni, fotona centrale, bellissima, con la nostra Stefania Constantini, campionessa di curling, Steffi e quell'oro solo sfiorato, noi in gioco fino alla fine, dice il titolo, gli occhi di tigre, dice il gazzettino, di Stefania Constantini, concentrata sulla stone, il sasso del curling, sabato ha guidato la nazionale italiana a uno storico argento europeo, che per pochi centimetri non si è trasformato in medaglia d'oro, la medaglia d'oro è stata invece vinta dalla Svizzera, qui firma Marco Di Bona, ciao Marco, e ciao anche a Stefania, sempre bravissima, perché veramente ha un potere di trascinare, un po' come abbiamo visto Sinner nel tennis, quelli personaggi che sono capaci di trascinare una squadra o addirittura un movimento. Il titolone però in apertura del gazzettino riguarda il problema dei furti in casa, pattuglia in borghese, dice il titolo, dopo i numerosi casi tra Feltrino, Capoluogo e Valbelluna, polizie e carabinieri studiano nuove iniziative anti ladri, sono sette le abitazioni prese di mira domenica nella zona di Trichiana, si punta anche su telecamere e leggi targa, telecamere al setaccio, leggi targa e pattuglia in borghese, carabinieri e polizia mettono in campo tutti i mezzi e gli uomini possibili per fermare la banda o le bande di ladri che nelle ultime settimane hanno preso di mira il bellunese, dopo i colpi di Cavarzano a Belluno, domenica sera è stata la volta della zona di Borgo Dante, a Pialdiere e a Trichiana, in comune di Borgo Valbelluna, il bilancio di sette case prese di mira dai malviventi che sono entrati in azione al solito orario, ovvero dopo le 18, avvistate dalle vittime, un'utilitaria nera e due persone vestite di scuro che scappavano tra i campi e ovviamente si pensa che possano essere loro. Belluno, violenze sessuali e pedofilia in aumento. In un biegno, dall'estate del 2021 alla scorsa estate, il numero dei delitti a sfondo sessuale, queste sono notizie terribili, nella provincia di Belluno è aumentato, sentite, del 62%. Erano 36, sono volati a 58, ovvero 22 casi in più, quasi due al mese. Di 46 di questi si conosce l'autore, i restanti 12 sono per mano dignoti. Nei 12 mesi, a partire dal 1 luglio 2021, erano stati rispettivamente 36, risulta invece pressoché stabile il reato dei delitti di stalking. Attenzione, di questi reati, questi reati hanno trovato più il coraggio, l'opportunità anche, visto le strutture che sono state create, per denunciare. Allora il fatto che ci siano più denunce non vuole necessariamente dire che ci siano più atti delittuosi, ma può essere che questa punta dell'iceberg, l'abbiamo sempre detto, è la punta di un iceberg, la violenza domestica è tanto di più di quello che vediamo apparire, però può darsi che questo iceberg un po' stia emergendo, no? E noi così anche da qui invitiamo a farlo emergere, perché la violenza in casa è un disastro. Belluno, bilancio 2024 già varato, entrata in calo, vero problema. Domani in Consiglio Comunale il bilancio previsionale, che viene portato prima di dicembre, sottolinea con forza il vice sindaco Paolo Gamba, stiamo parlando ovviamente del comune di Belluno. Ieri la squadra di Oscar De Pellegrin ha presentato il documento, frutto di un lavoro certosino che ha dovuto fare i conti con 2,5 milioni di euro di trasferimenti in meno. Molte dunque le somme tagliate in quasi ogni capitolo, fatto salvo il sociale. Allora, a Livina Longo alvia i lavori della nuova cabina contro i blackout e sappiamo quanto quelle zone siano state messe in ginocchio in passato dai blackout, quindi sicuramente un investimento di quelli che dovrebbero anche servire così a indurre la gente a investire, a restare, a aver voglia di restare perché crei situazioni di visibilità. Borgo Valbelluno, Motorini e Apecar truccati e spericolati protestano i residenti di Villa di Villa, è una moda questa delle Apecar truccate, che insomma poi sono successi anche i problemi, anche i morti in passato, ricordiamo a Taibong. Mancano operai comune di Cesio a rischio paralisi e, altro titolo, Cortina, una variante per rendere vivibile il centro per la viabilità di Cortina a Nampezzo. Si prospetta una nuova importante opera da realizzare prima dei giochi olimpici e paralimpici invernali 26, ieri c'è stata la conferenza di servizi per il lotto zero della variante che interessa il ponte Corona, la strada del Lungoboite e Maioni, il rinnovato ponte di Crignes che dovrebbe essere aperto a giorni per proseguire in via dei campi fino a Piazzale Revisse. Allora questo di buona ce ne riferisce a pagina 13, noi adesso passiamo a vedere che cosa c'è sulla prima del Corriere delle Alpi che non avevamo fin qui guardato in prima pagina, eccolo qui, Angelica Lucida si può processare, dicevamo, abbiamo visto la notizia all'interno, è il titolo di apertura, depositata l'aperizia psichiatrica chiesta dal PM, indagini a una svolta, avete capito perché l'abbiamo detto, perché essendo stata capace di intendere di volere, ebbè non si può escludere nemmeno la volontarietà che sarebbe una cosa agghiacciante di quella triplice uccisione con due persone che se non sono cavata per un soffio. Andiamo a vedere gli altri titoli bellunesi qua sulla prima, perché ci sono anche notizie di crattere poi di fuori della nostra provincia, l'assassino che ha ucciso a Venezia Isola, che avrebbe voluto uccidere anche l'altro, c'era stata una lite, apprezzamenti su una donna, sulla moglie, sulla donna dell'assassino, la fotografia centrale è di Cortina, bellissima, la variante di Cortina fa crescere l'isola pedonale, c'è anche qui la notizia di cui abbiamo detto, di fianco c'è la notizia di carattere regionale, un maxipiano di sicurezza per i funerali di Giulia, Giulia Cecchettino, si è vicina, la data, Turetta intanto sarà interrogato oggi. Altri titoli sono sugli approfondimenti, la demografia è la chiave per lo sviluppo, si può sfidare la leadership di Milano, la gioia dei tennisti e le preziose icone del immaginario, diamo l'esempio le gite del CAI con i mezzi pubblici. Io vi leggo quest'ultimo lancio per chiudere la rassegna di oggi, dobbiamo impegnarci a usare sempre meno auto propri per le escursioni e far uso di mezzi pubblici, dei mezzi collettivi. È una delle tante conclusioni che il presidente del club alpino italiano Antonio Montani ha tirato del congresso nazionale svuotosi a Roma sui temi climatici. Allora, io con questo mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a seguire Radio Piave e www.amicodelpopolo.it. Ciao a tutti, buon martedì 28 novembre, da Luigi Guglietti.